Ciao bello, sono Louridis e siamo sulla nuova rubrica con la in cui io provo gli allenamenti fatti da te. Quindi, se hai allenamenti a farmi provare, scrivili con un commento sotto questo video, non su altri video, ma sotto questo video, questo, sotto questo, non sotto gli altri, questo. Ah, perché ho visto qualche altro commento scritto in altri video, ma non li posso andare a prendere nei video sparsi, giusto? Quindi, ah, detto questo, iniziamo col primo, che è di Stefan Pro, mentre i nomi sono quelli che vedo su YouTube. Quindi, Stryker, uno di dieci, attacco e difesa. Questo è il Dribble probabilmente? Sì, lo ricomincio. Ehi, io provo a farlo. Non volevo, no, non volevo così, no. È tipo così? Tipo, tipo, tipo. Però è più bello da vedere. Eh, cos'è più bellino? Ok, volevo farlo così, però... Questo nel Dribble? Sì. Ti facciamo lento, 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 lento. Perfetto. Sarà un tiro diretto? Non lo so. Boh, ho fatto due volte il mini Air Dribble, va bene così. Questo cos'è? Che devo fare qua? Aspè. Ah, questo è in porta, ok, è difesa. Va bene. Questa è per la difesa. Però quella era un po' troppo centrale, quindi la rifacciamo. Ma lo buttiamo un po' più laterale. Sempre centrale e fa schifo, sempre. Così è meglio. Più laterale. Sì, un pochino di più. Ok, questo l'abbiamo fatto. E questo è dal muro... No. Non così. Magari lo facciamo laterale. Ve lo tranquillo, tranquillo. Oppure proviamo a fare i cichi. Col jump rise. No. Questa sembra una specie di redirect. Possiamo fare sia a doppio tocco. Che mi sono fatto complicatissimo. O maledizione ammessa. Oppure ciò c'è un tiro direttino. Lo contiamo? Lo contiamo. Questa è speculare. Ci sta tanto. Va bene. C'è un po' di... Non ho preso il jump reset là. Ma perché? L'ho preso con tutte le ruote. Non ha senso, scusami. Poco fa l'ho preso con le ruote. L'hai visto? Menzogna del gioco. Il gioco mi vuole male. Angolino. Ma vuoi entrare? Ma che ti costa entrare? Ce l'abbiamo fatta a far entrare. Era carino da segnare così. Nalflip. Però non volevo entrare mai. Questa esce pure una bella bombetta. Jump reset. Va bene. Mi va bene così. Guarda. Mi va bene. Mi va bene di farci così. Guarda che è carino. Un allenamento molto molto carino di Stefan Pro. Ora andiamo al prossimo. Che è di Rev. Si chiama Double Tap. E sono sei. Sono sei tiri. Double Tap. Quindi lo tiro. Eh no no no. Aspetta. Double Tap. Quindi lo devo fare più fortino. Poi vado su. E boom te. Willa. Saltellando. Saltellando. Facciamo i doppi tocchi. Cuore, muscolo e polmoni. Non mi ricordo più. Aspetta questo come... Ok sì. Perfetto. Angolino. No. Abbiamo... Volevo l'angolino. E l'ultimo com'è? Dire. Eh aspetta. Farla almeno un po' più alta. Eccola qua. Così è più bellino. Vedi che siamo tutti sbraichi sì. Ci sta come allenamento. È breve. E a me piacciono elementi brevi. E in più è fatto bene. Sono i classici doppi tocchi che puoi fare. Però se impari a fare questi. Puoi scalare e variare anche più facilmente. Allora andiamo a quella di agosto. Sette tiri. Goli. Dobbiamo pararli. Va bene. E questo è il primo. Questo per riscaldare i riflessi ci può stare. 72%. Vole 72%. Ora invece abbiamo quelli di Bra. Bra ne ha dati tre. E sono. Ne ha dato uno per i gold. Quindi questo è l'allenamento che ha fatto per gli oru. Quindi noi lo sapremo fare. Non lo so. Boom. Tiro di merda. Bello angolino. Ecco. Angolino l'altro. E che? Tu non hai visto niente. Non hai visto niente. Qua sarà un power shot. E dove è il pallone? Mi sono confuso. Aspe aspe. Che devo fare qua? È controllo. Lo sa voi da me bra. Boh. Fatto. Sono bravo eh. Mi piace il fatto che l'abbia divisi per rank. Comunque ci sta. Ma forca trafango. Devo dire che questo allenamento è fatto abbastanza bene. Perché fa diverse cose. È molto incentrato sui power shot e sul tirare in porta. Che è quello su cui si dovrebbe soffermare. Chi? È appunto a oro. Questo invece. Ah. È il tiro diretto dal muro. Va bene. Ci sta questo allenamento. Quindi lo consiglio. Lo consiglio. Bello. Ora andiamo a vedere quello per i platino. Secondo tiro. C'è tante differenze tra gold e platino. Sì. Già si vede da questi tiri così. Brava. Ha fatto un bello. Questo non lo ho capito. Ah. Ok. Devi andare a leggere subito. Va bene. Questo era un po' perciò in corsa. Va benissimo. Ok. Questi già ci stanno. Perché devi farli senza far toccare terra. Devi velocizzare. 3, 2, 1. Boom. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Come quello bronzo. Però non hai il tempo per fare quello che vuoi. Ok. Quindi ho fatto un allenamento molto simile a quello di prima. Però. Devi correre per il tempo. Infatti di qua non ci arrivi. Se è un po' più lento. Ci sta. Angolino. Ma proprio no. Ma proprio no. Questo cos'è? Piano. Calma. 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 Come se facciamo una flip side. E' fuori. Allora. Qua stiamo facendo brutta fi... E? Che figata. Questo era... Rimbalza bene. Rimbalza bene. Eh no. Questo è buono. Ti prego. Sì. Siamo più forti. Ci è mai piaciuto. È bello fare gli allenamenti così. Allora abbiamo l'ultimo di Bra. Sempre di Bra. Questo è quello diamante. Quindi vediamo come ha migliorato il tutto. Eh che cosa vuoi dare? Controllo palla. Ma questo è un diamante. Lo sa fare a occhi chiusi. Scusami. Bra. Che mi combini. Lo consideriamo? Oppure lo rifacciamo? Questo è quello che vuole controllato però. Bu. Può anche valere un powershot magari da seguire. E non si sa. Può anche essere un powershot diretto. No. Questo invece è cos'è? Rimbalzo dal muro semplice. Classico. Boom. Ah. Boom. B. E qua che devo fare? Dimmi. Bra. Cosa vuoi da me? Doppio tocco? Erano due jumpersi di fi... Eh raga. Qua c'è troppa bravura ormai eh. Io lo dico. Però andrà pure le sieste mondiales. Questo invece? Redirect? Eh già davanti ci sta fare più redirect. Più sensato. Ci sta, ci sta, ci sta. Che il gioco diventa più aereo, più... Più veloce. E qua che devo fare? Difesa dal muro? Che cosa vuoi da me qua? Bra. Che devo fare? Cosa vuoi da me? Che cosa... Come lo devo fare? Eh. E con tutti i rimbalzi? Non ho mai capito cosa dovrei fare. Cioè dovrei andare subito qua per tirare. Non ho capito. Non lo so. Questa è la lettura della backward. E a diamante ci sta perché comincia a servire. Questo lo so. Non lo so. Questo lo vediamo un po' meglio. Deveva essere un power shot. Si può fare in tanti modi diversi. No! Era una bomba! Era una bomba. Di nuovo! Eh no. Però è venuto un po' forte. Eh. Se può fare anche così. Ma il più bello è questo qua! Ma perché così debole? Quando viene forte esce fuori. Guarda! Oh! È una stronzata poi. Però mi piace fare questi allenamenti intanto così. Stupidi. Questo invece cos'è? Sempre dal muro? Va bene. Beh, gli ultimi 12-19. Quindi ne mancano 77. Ok. Giusto. Ehi, che paura. Questa cos'è? Lettura? Questa è la lettura dei passaggi. E' questo che... E' qua... Boh. Doveva essere tipo... Così? Questo è uguale a quello di prima. C'è un angolino. Beh, è bello quando uno riprende l'angolino così. Bello, bello. Sarà un doppio tocco. Che rimbalza abbastanza forte, lo ha, il pallone. Ma anche quando lo tocchi piano, 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 piano. Piano, 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 piano. Questo qua già ci sta di più. Soprattutto dopo la battuta. Perché molte volte li vedo sbagliare. Deve essere bravo a leggere la prima degli avversari. Il livello è alto, più deve essere veloce. Non puoi aspettare tutto il rimbalzo. Questo sarà controllo. Questo penso sia un tiro diretto. Si può fare anche il doppio tocco. E penso sia tutti i modi per farlo. Cioè, si può fare in tanti modi, ovviamente. Il bello degli allenamenti è questo. Va bene, questi allenamenti rispetto a quelli l'altra volta sono stati molto più calmi. E per questo ti ringrazio tantissimo. L'altra volta c'è l'allenamento di qualcuno. Non faccio nomi. Che mi ha fatto un po' esagitare. Poco poco. Quindi, grazie mille per avermi lasciato il codice. Gli allenamenti, se dovessi mandare pure il nome di qualcuno, un logopedista magari, non so parlare bene. Noi ci vediamo alla prossima. Ricordo di scrivere i codici degli allenamenti qua sotto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.